Amici e amici di Rossini TV, oggi seguiremo per voi una gara ciclistica e quando dico seguiremo, dico nel vero senso della parola perché proprio andremo con i ciclisti che partono da qua come avete sicuramente riconosciuto siamo in piazza del Popola Pesaro per arrivare fino ad Urbino la Rossini Raffaello, questo è il nome di questa gara che è destinata a diventare una classica questa è la prima edizione, vi faremo conoscere come è nata, chi l'ha inventata vi faremo conoscere anche dalla viva voce dei protagonisti tutto quello che c'è dietro questa organizzazione perfetta e poi e poi vivremo anche dei bei momenti lungo il percorso per poi scoprire all'arrivo chi si sarà conquistato i primi posti, seguiteci e non ve ne pentirete Ancora dal famoso tavolo ma qui diciamo proprio tra il nucleo originario degli ideatori abbiamo Maurizio Ralli, Maurizio siamo nel mondo del ciclismo agonistico, siamo a fare una gara cronometri, percorsi chiusi, insomma è una cosa seria una cosa seria soprattutto perché è una gara della categoria allievi quindi una gara di ragazzini giovani che fanno sport e che sperano nel ciclismo di magari un giorno trovare il loro futuro cosa che oggi è sempre più difficile vedere giovani che fanno attività sportiva attività sportiva agonistica e soprattutto un'attività sportiva come il ciclismo che veramente gli impegna tanto e che già da giovane gli chiede sacrificio quindi siamo qua per cercare di stimolarli sempre di più, dannogli una mano da un punto di vista organizzativo e cioè portarli a casa loro, a Pesaro, a questi ragazzi e nelle marche una nuova manifestazione perché oggi il problema di stimolare questi ragazzi a fare attività è anche proprio la problematica della carenza delle gare a livello nazionale ci sono sempre meno gare, ci sono sempre meno società che fanno attività agonistica quindi noi con questa nuova manifestazione, con questa Pesaro Urbino, Rossini Raffaello vorremmo cercare di riportare entusiasmo nella nostra provincia perché ormai sono tantissimi anni che da noi addirittura mancano società sportive a livello giovanile nel ciclismo e soprattutto che mancano anche competizioni ci siamo voluti mettere alla prova, abbiamo voluto sfidare proprio un po' questa situazione e speriamo di riuscirci perché ancora non abbiamo fatto nulla ancora i ragazzi devono partire e quello che dobbiamo sperare è che tutto vada bene che arriva in Urbino, che non succeda niente e innanzitutto possiamo dire che siamo arrivati almeno alla partenza perché abbiamo avuto un grande aiuto abbiamo avuto un grande aiuto dalle amministrazioni, abbiamo avuto un grande aiuto dalla regione ma soprattutto abbiamo avuto un grande aiuto da tanti sponsor persone probabilmente come noi appassionate di ciclismo persone che hanno creduto in questo progetto e quindi speriamo che quando questa sera tiriamo giù la sera cinesca potremmo avere dato soddisfazione a tutti loro, a tutti noi e già da lunedì pensare al prossimo anno con Giacomo Rossi uno dei componenti del tavolo tecnico che ha organizzato questa bellissima manifestazione naturalmente ognuno ha portato del suo, Giacomo Rossi si è occupato anche dell'accoglienza e da esperto com'è del territorio e da protagonista del territorio con la sua Cavirginia naturalmente ci parla dell'aspetto così un po' spettacolare e dell'aspetto un po' turistico di questo percorso sì abbiamo cercato di mettere sul tavolo ognuno le competenze chiaramente che ha in ambito professionale quindi nella vita normale tra virgolette ci siamo fatti coinvolgere su questa iniziativa subito ci ha appassionato e quindi da parte mia devo dire che è stato anche un bel momento per poter dare l'accoglienza e quindi organizzare con colleghi e hotel della zona quindi tra Urbino e Pesaro diciamo la parte di ospitalità per i team quindi abbiamo alloggiato più di 15 team in diversi alberghi quindi partendo da Urbino fino ad arrivare praticamente qua sulla costa e oltre questo ci siamo resi responsabili anche per la parte di pasti quindi coinvolgendo chiaramente attività locali è una bella sfida, è la prima quindi è una bella sfida anche per me con Graziano Vitali, presidente della società sportiva Alma Juventus Fano una delle squadre del territorio una delle società che hanno una squadra per il nostro territorio la domanda è quasi scontata è contento di una gara come questa che si svolge qui da noi? felicissimo bisogna dare un grandissimo merito al gruppo di persone che ha pensato a questa gara il numero di partecipanti e la qualità dei partecipanti stanno a testimoniare che questa sarà sicuramente la prima di una lunga serie di edizione di questa gara e molto probabilmente appunto diventerà una classica degli allievi mi preme sottolineare che per noi è un importante momento perché la gara è anche il primo Memorial Marco Ragnetti scusate sono un po' emozionato ed è una cosa che ci tocca molto Sergio Ragnetti è qui vicino a me il papà di Marco Marco Ragnetti a cui è dedicata l'intera manifestazione la intera gara è un Memorial per Marco Ragnetti che sicuramente i telespettatori di Rossini TV ricorderanno un pensiero ovviamente a Marco e un pensiero a questa dedica e a questa manifestazione diciamo che io ringrazio veramente tutti per aver organizzato una cosa del genere perché Marco si teneva veramente è iniziato col ciclismo perché era una mia passione ha iniziato così giusto per divertimento poi se l'era presa veramente cuore siamo andati alla presentazione di questa gara dove aveva dato veramente voglia di fare veramente bene poi purtroppo è successo quello che è successo è andato un po' così io veramente ringrazio soprattutto Maurizio anche del Fisoradio un po' la squadra, l'Alma Juventus Pano un po' tutte le persone che sono dedicate a organizzare questa gara in memoria di Marco a livello proprio familiare vogliamo dire veramente grazie Ivan Giacchini grandissimo esperto di ciclismo speaker, organizzatore di manifestazioni, ciclista a sua volta insomma un sacco di cose quando ho saputo, quando mi hai confermato che c'eri ho tirato un sospiro di sollievo perché ho detto benissimo lui adesso mi spiega tutto e mi dice per me ma soprattutto per i telespettatori di Rossini TV un po' quali sono i segreti di questa gara che già guardandomi intorno io quasi quasi definirei destinata a diventare una classica ma nasce già con le stimate della classica perché una gara per allievi non è assolutamente scontata un impegno organizzativo notevole, un gruppo di amici che ben conosci si sono detti disponibili quindi una bella collaborazione tra Peso e Rubino che di fatto sono i due capoluoghi di provincia e poi soprattutto Paolo la passione verso il ciclismo oggi possiamo affermare che qui dalla Rossini Raffaello transiterà una buona parte del futuro il ciclismo italiano Hai qualche nome da fare o c'è sempre il rischio poi di dimenticare qualcuno oppure di scontentare qualcun altro? Ma intanto il lustro e il prestigio arriva dalla presenza del campione d'Italia della categoria allievi Ivan Toselli quindi il corridore laziale del team Il Pirata che gareggerà per l'ultima volta con la maglia tricolore qui a Pesaro qui nella Rossini Raffaello poi ci sono i corridori di casa naturalmente l'Alma Juventus Fano è parte integrante del comitato organizzatore c'è Giacomo Sgherri che reduce un ottimo terzo posto al campionato italiano cronometro quindi diciamo che c'è nella quantità perché 148 corridori iscritti sono un buon numero te lo garantisco io che la vivo settimanalmente questa realtà 28 squadre, 11 regioni rappresentate insomma c'è tanta qualità nella quantità quindi oggi ci attendiamo soprattutto lo spettacolo e sicuramente chi vincerà questa corsa potrebbe essere destinato a diventare perché no un corridore in futuro mi riaggancio a quello che hai appena detto, ne hai viste veramente tante mi verrebbe da dire che qui siamo in puro stile un po' alla pesarese partiamo in piazza, l'arrivo comunque a Urbino per cui anche diciamo un po' lo stile del territorio che non si accontenta semplicemente di essere teatro ma vuol diventare anche un po' protagonista per cui questo territorio che si vuole esibire è anche per questo che noi siamo qua con le telecamere nostre poi anche sul percorso perché insomma questo territorio protagonista merita questo esatto, il territorio protagonista è un po' quello che vogliono gli organizzatori perché si parte dal cuore di Pesaro, piazza del popolo e si arriverà in un altro meraviglioso gioiello che è Palazzo Ducale quindi sotto Palazzo Ducale nel cuore di Urbino per toccare appunto i due capologhi di provincia in questo itinerare bello e anche far conoscere l'entroterra il nostro entroterra perché il ciclismo dà modo di valorizzare sicuramente quelli che sono i territori, quelle che sono le bellezze del nostro mondo col consigliere regionale Nicola Baiocchi Nicola oggi è una grande giornata di sport, siamo in piazza del popolo siamo a Pesaro per questa partenza verso Urbino insomma il territorio, la regione c'è tutto c'è veramente tutto quindi veramente complimenti agli organizzatori per questo evento quando si parla di sport si parla veramente di cose importanti per i nostri giovani, per le nostre famiglie, per tutto il territorio quindi tanta promozione al territorio la regione Marche è vicino a questi eventi, a queste situazioni che vanno a valorizzare il nostro territorio e la nostra regione quindi in bocca al lupo ai partecipanti, una bellissima giornata di sole non so come faranno fare tutti questi chilometri, io sto già male adesso sinceramente però veramente un evento importantissimo quindi veramente bravi e di questi eventi ce ne dovrebbe essere ancora di più sicuramente, grazie Grande appassionato delle due ruote, grande appassionato di ciclismo al consigliere Biancani la domanda è dopo, perché non sei alla linea di partenza? Beh innanzitutto non ho più l'età, diciamolo, perché oggi corrono i giovanissimi e quindi a me non mi avrebbero fatto partecipare io voglio fare i complimenti comunque agli organizzatori perché organizzare un evento come questo è molto complicato tocca a diversi comuni, arrivare da Pesero a Urbino è veramente, non è assolutamente semplice quindi voglio ringraziare chi è organizzato tutti i volontari che stanno collaborando a questa bellissima iniziativa e poi voglio dire la bellissima idea anche di, come dire, questo primo evento è dedicato a Ragnetti, a Marco Ragnetti un giovane ragazzo che faceva ciclismo e quindi veramente un bellissimo segnale quindi io spero che non sia la prima e l'ultima che sia anche per i prossimi anni l'opportunità di ripetere una bellissima iniziativa come questa con Emiliano Neri del gruppo Bici Pro Emiliano è un momento sempre emozionante ti abbiamo catturato, sono appena partiti è un momento emozionante anche per chi non ha mai praticato per chi è dentro come te immagino che sia sempre un rinnovare ti posso assicurare che è sempre emozionante soprattutto poi quando si tratta di ragazzi quindi è veramente una gioia vederli partire in bicicletta e personalmente auguriamo il meglio a questa manifestazione una prima edizione che ha grande ambizione vuol diventare una classica nazionale pensiamo anche in grande, internazionale quindi un passo alla volta però veramente una bellissima manifestazione e complimenti al comitato organizzato grazie a tutti Mattia Proietti, Gagliardone, terzo classificato siete stati in tre fino alla fine poi insomma in qualche modo sull'ultimo chilometro qualcosa è successo sì, appena iniziata la salita ho cercato subito di fare la differenza ci sono riuscito infatti dopo due o tre chilometri già eravamo rimasti in tre ho continuato a provare per cercare di svalicare da solo però non c'è stato nulla da fare gli ultimi 300 metri quando mi sono alzato in piedi per fare la volata ho avvertito un po' di dolore alle gambe però non ho scuse perché sono stati nettamente più forti di me Leonardo Consolidani, Viterbo secondo classificato non è stato facile no sicuramente dura soprattutto per il grande caldo fin dalle prime battute di gara purtroppo un piccolo incidente meccanico mi ha costretto a fermarmi durante la prima scalata per fortuna sono riuscito a risolverlo sono riuscito a battere questo buon secondo posto veramente molto contento complimenti a Emanuele perché ha fatto una grandissima gara Emanuele Rocchi in Roma primo classificato non sembri neanche stanco no vabbè è stata una gara dura come ho già detto prima sulla prima salita sono rimasto in gruppo non mi sono mostro non ho sprecato energie poi dalla seconda salita abbiamo cominciato ad aprire il gas sono rimasto con altri due corridori sapevo di essere il più veloce e ho aspettato la volata finale in questo tipo di gare conta più la forza la preparazione o un po' di tattica? ma la forza la preparazione sicuramente però la tattica ha anche la sua importanza perché se non sai gestirti bene puoi perdere la gara stanno preparando il palco e il podio le coppe insomma grande animazione grande euforia un arrivo in volata bello comunque bello guarda ripeto quello che ho detto alla partenza non sono a vezzo ma mi emoziono anch'io per cui immagino che per voi sia insomma pane quotidiano ma sempre sempre spinta forte sì avevamo detto ci vediamo a Durbino siamo a Durbino è stata una corsa bellissima davvero in un arrivo in un contesto meraviglioso e anche molto combattuta da questi ragazzi quindi speriamo bene anche per il futuro siamo con Frank Fedrigucci era lui a sbandierare gli ultimi 200 metri per dare il segnale a Ivan che stavano arrivando per cui in qualche modo ha vissuto con un attimo di anticipo quello che è stato il gran finale di questa gara è stata una bellissima gara una bellissima giornata questi ragazzi fanno emozionare diciamo che siamo orgogliosi di aver costruito un evento incredibile nell'arco di 3-4 mesi abbiamo fatto questa prima edizione della Rossini Raffaello il ricordo di Marco Ragnetti e dobbiamo ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano eravamo più di 250 sulle strade che è una cosa fondamentale perché poi alla fine se non ci sono questi qua che ragazzi volontari che si fermano per garantire la sicurezza ai corridori non potremo realizzare diciamo un evento di questo genere ovviamente poi dopo ringraziamo tutte le amministrazioni che ci hanno sostenuti i sponsor e gli amanti del ciclismo dunque noi diamo da oggi un appuntamento al prossimo anno per la seconda edizione della Rossini Raffaello da Pesaro Urbino e la seconda edizione del Memorial Ragnetti avete di certo percepito questa grande soddisfazione quest'area di festa ancora c'è musica tanta gente che ancora si ferma intorno al podio e intorno allo spazio speaker per commentare questa gara che è stata una gara bellissima a detta di tutti e di conseguenza ci aggiungiamo anche noi e vi invogliamo ad aggiungervi anche voi a questo giudizio assolutamente favorevole assolutamente positivo su questa prima edizione della Rossini Raffaello questo primo Memorial che è stato dedicato alla memoria di Marco Ragnetti sicuramente una classica ce l'hanno confermato sicuramente la seguiremo anche nelle prossime edizioni per adesso vi ringraziamo per averci seguito e vi invitiamo a restare sempre sul canale 80 di Rossini TV